Il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, è tempo di fare un'analisi dei risultati maturati alle urne. Nella prima regione è stato rieletto il presidente uscente Stefano Bonaccini, sostenuto dal Partito Democratico, col 51,3% dei voti, superando dunque la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, che si è fermata a 43,7%. Crolla il Movimento 5 Stelle col 3,4% dei consensi per il candidato Simone Benini. In Calabria, primi gradini del podio opposti rispetto all'Emilia-Romagna. Vince Iole Santelli, candidata del centro-destra col 55,4%, contro Filippo Callipo, appoggiato dal centro-sinistra a quota 30%, a 7,29% Francesco Iello, supportato dal Movimento 5 Stelle e un'altra civica. A sorridere in questi casi sono sia la Lega che il PD, i primi, per dichiarazione del governatore Federica, per i passi avanti fatti in Emilia-Romagna e per le vittorie in Calabria. Io ricordo sommessamente, verso le feste di giubilo di alcuni, che 5 anni fa, con il presidente della regione di Missionario, perché era inquisito, il PD vinse col 20% di scarto. Quindi, evidentemente, siamo riusciti a rendere contendibile quella regione, non ce l'abbiamo fatta vincere. La Lega ha confermato di fatto al centro-destra i risultati delle elezioni europee. Abbiamo vinto in Calabria. Sorprende, devo dire, che si facciano analisi molto superficiali come grande vittoria del PD. Il PD ha tenuto, non c'è dubbio. Dopodiché, che il PD abbia vinto, ho dei dubbi seri a leggerlo dei numeri. Però, insomma, io capisco che quando uno è abituato a perdere tutto, fa una vasca di nuoto, pensa di aver vinto le Olimpiadi. Il PD, per voce di Deborah Saracchiani, esulta per aver mantenuto più consensi in Emilia Romagna e per aver così scalzato la possibilità di vedere la Lega prendersi buona parte del nord Italia. Un risultato davvero molto importante. Tra Bonaccini e Salvini, l'Emilia Romagna ha scelto Bonaccini, ha scelto il buon governo, la buona amministrazione, una regione che è stata amministrata bene nei 5 anni precedenti, non poteva cadere, non poteva cadere nelle mani di chi fa solo propaganda e investe sulla paura. Lo hanno capito loro, ma credo e spero l'abbiano capito anche gli italiani. Quindi un risultato importante anche per il Partito Democratico, che è arrivato all'appuntamento unito, forte e radicato territorialmente.